Le stelle del firmamento si tengono sempre per ultime e poi direi che è un personaggio da voi molto amato, molto conosciuto, è un personaggio molto importante. Quello che dice sono parole molto... a volte sono parole che bisognerebbe soppesarle per benino. Allora io direi che non c'è bisogno di tante cose, ma vogliamo chiamare tutti insieme El Tognella? Lo vogliamo chiamare? Avanti, avanti, con un applauso però! El Tognella, avanti, avanti, El Tognella! E' tutto vostro, io me lo posso solo baciare adesso, per un attimo, solo un minutino, non di più. C'è da chiedere il permesso, si può fare senza permesso! Ma fallo, fallo! Con l'incitamento di loro! Bello, lo faccio dall'altra parte! Poi, ognuna adesso, disgrazie! Ehi, ciao a tutti! Vacca è dura, ne? Vacca è dura! Però, adesso il governo che... Scusate se a sorrivo al ritorno, le che a me toccando all'ospedale, a tirare fuori il sangue! Adesso ci tirano fuori il sangue a tutti i metalmeccanici, ne? Ehi, ce lo danno a quelli che c'ha l'AIDS! Scusate, perché? Eh, io tol metalmeccanici, le quarantante c'è più in ducchi! Ma niente! C'è un appello del Ministro della Sanità! Occio, eh, occio! Tutti quelli... Cagò! Ho sbagliato! Arifu, rifu, rifu! Tutti quelli caccia! Caccia! Che cagale è un'altra roba! Tutti quelli caccia! La bicicletta da corsa! Caccia sul cambio! Andati in avvio! Devono mettere il fisso! Perché la dildutur che per l'AIDS a continuare a cambiare il rapporto si rischia! Come era? No, no! E non c'è troppo di ridi, no! Eh, eh, eh! Eh, ragazzi! Se andiamo avanti qui, fra un po', non andiamo in giro come quando c'è un fiore! A tutta manetta, eh! Eh, il problema di noi uomini al giorno d'oggi, ma che è duro, eh! Eh, ragazzi! Eh, ragazzi! Ma c'è più il due metal! Ma finito con da gala gotta! E meno male che non si lamenta se lo trova molle! Meno male! Perché la mia mia me la dice sempre! Da gala gotta! Da gala gotta! Comunque ragazzi, a giorno d'oggi col progresso e la civiltezza ci capita di quelle robe! Eh, oh, 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 oh! Da te! Da te! L'altra dì! Se mi andai in posta, ho trovato Giovanni tutti in cazzetto! Ho dissa che fa? Eh! Se ogni chi in posta c'ha po' la pensione, ho trovato il pepino! Ma godì, ma se sei qua a fare! Eh, c'ha po' la pensione! La pensione! Ma quanti anni c'hai? 36! E ti c'ha po' la pensione! Eh, io c'ho la AIDS! Ma va a cabeça, amico l'Ips! Tu puoi aspettare fino ai 65 anni! C'è, a parte il fatto che tra l'Ips e l'Ips che non troppa differenza, no? Di AIDS si muore, ma da l'Ips dopo ti vivi troppo, eh! E' più lento! Davila! Sì, settimana scorzuta, no? Son' andato all'assicurazione PERCHE A MAMMANINCHULO, NO? Oh, nel senso dell'automodula, c'era uno davanti di io che aveva l'assicurazione casco, se sale la casco, no? L'assicurazione di Tarluc, deve contrarmi il mio pila, ti ha pagato i stessi. E da fuori impiegato, oi ragazzi, ho spaccato quattro ammortizzatori, ho rovinato la carrozzeria e ho tagliato le gomme, mi dovete rimborsare. Va bene, ma cosa ha fatto? Ho investito un terone. Oh la madonna, un terone, quattro ammortizzatori, me la fa? E cazzo? E mi ha scappato i mesi di cappone? Ma non è vero, ne? Invece, oh, 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 invece stessate, stavo andando in bicicletta in riva al fiume Lambro. Fiume, no, adesso nel Lambro ci sono ancora le trote, ne? Ma da cesso? C'era la uno che pescava, insomma, pescava, dice anche che bagnava il cuore al verme, no? Tutto un tratto c'era io uno di corsa, azzabito in terra, comincia a risciacquare, e beh, che fei cretino, te te no che le merda, cosa bevi? Ma la mia, che te merda, muori? Ma che minghia voi? Bella, bella tutta che le minerali, bella tutta. Però, eh, però dobbiamo, dobbiamo essere contenti, ne? Poi, va, 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 siamo quasi dal duemila, ne? Siamo nel futuro, ah! Cambia la menada, rispetta una letta, eh! O con il, il metalmeccanico, eh! Siamo più i coglioni di prima! Nella mia ditta, coi sindacati, abbiamo fatto la commissione esterna! Sì, esterna, perché quando vendi il padron, la dici, se volete fare l'assemblea, ci sono le caccelle! E lui mi fa la commissione esterna, nessuno! Però il nostro padrone è una brava persona, ne? È una brava persona, eh! È lui che ci organizzi i scioperi, eh! Sì! Sempre alla domenica pomeriggio! Perché dice che la sua ditta è una famiglia! Siamo una famiglia! E lui è il papà, ah! Difatti ci tratta come i suoi figli, ne? Come i suoi figli, non ci dà lo stipendio, ci dà la mancia! E poi, poi il mio padrone intelligente, no? Ha un grande cervello! Lui segue sempre la televisione! Ha che, ha che, ha che si struisce, no? Il mio padrone, nel business del marketing, è dritto, no? Segue la storia lì, tre per due, tre per due, tre per due! Oh! C'è che adesso ci ha fatto riuperare, ne ha pagato madone, eh! Eh! Però c'è... Però c'è di dire una roba, ne? Che noi, metalmeccanici, abbiamo sempre lottato, ma abbiamo anche lì giù, ne ha! E quando si è riapprendista, eh! Si favano sedici ore al giorno! L'aurò messo mori! Per lotte, sciopro, sciopro, lotte, via! Otto ore al giorno, una vittoria! Per lotte, sciopro, via! Un'altra sabato, un'altra vittoria! L'ultima vittoria che abbiamo fatto coi sindacati! Lotte, sciopro, sciopro, lotte! Tutti liberi in casa integrazione! Che bella vittoria! Però, nella mia vita che si è salvata, tiriamo avanti bene, eccoci, qualche soddisfazione che le mancano per ore! Poi il mio padrone, con io! Ha una simpatichezza! Ma tratta proprio come il soffione! Eh, va, 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 da te! Ma se mi ha combinato? Qualche anno fa, c'è stata la marcia contro le tasse a Roma! No, non la marcia su Roma, né, quella che sta prima! La marcia contro le tasse! Eh, sai che il mio padrone, con cento operai, dichiara tutto quello che guadagna e che tocca pagare 23.500 lire all'anno da tasse, né? Quindi fa malfalii! Ora, facciamo, facciamo un piaseo, vatti io a Roma a fare la manifestazione! Dice il padrone, partite in bicicletta adesso e riempimelo! No, ti pago io le spese! In più, a che generosezza, né? Ti mando a Roma con un mezzo che hai mai provato! Eh? Ti mando a Roma con parecchio! Parecchio che cavolo, come i suori, né? Infatti, sono andato all'agenzia, parecchi! Gli alla limpie gogo di, guardi, io dovrei andare a Roma, parecchio! Oh, è fortunato! C'è un volo carter che fa per lei! Ha messo a restare lì, ho mica da dei... Cominciò a fare la figlia di un pistolotto, no? Ora, così, con noncelanze, gogo di... Guardi, a me del carter non mi interessa! Anche se si vede la catena, fa niente! Tutto il primo è che ci sono ammolata circa solo! Difatti, mi ha fatto il biglietto, mi ha detto, se c'è il pullman che c'è lì di fuori da me nel aeroporto! Mi ha detto, vabbè, a me non c'è più il pullman, però lì che mi ha la bicicletta, mi ha la cioola, né? Difatti, sono andato sul pullman, siamo arrivati al aeroporto, Timo, l'era grande! Però io si sono spaventato un po', né? O è il gran casino della Madonna! Chi correva, chi gridava, la pulizia, i carabinieri, i cani! E ho cominciato a pensare male! Ora c'era lì uno tutto in tiro, vestito da blu! Ma fa... Ma cosa dì, ma scusi, ma dove siamo? Fa malpensa! No, mia, non puoi pensare male, ma fa anche così! Ma si incassa subì, né? Fa male, deve fare un volo! Mio! Mica stupi, l'ultima volta che ho fatto il volo sono steppati dalla faccia! Allora ce l'ha il tic! Eh? Il tic! No! No! Il tic è il cano mico! Ogni tà mangi i bolpero, né? Allora deve fare il check-in! C'è da fa? Check-in! Eh, Nino, ma che vedi già poca, fa il check-in contro l'altro! Ora si mette in coda, che va su sul parecchio! Infatti, siamo andati fuori dalla corte, e c'era lì due parecchi! E io ho scelto tutto il più seppato, no? O se ritrovi in da su... Ui! È arrivato lì un altro tutto in tiro, vestito da blu! E fa... No, no, quello è check-in, lei va su su quell'altro! Eh? Quello è check-in, lei va su su quell'altro! Sapeva che risolta? Quello è check-in, lei va su... Ah! Adesso capisco perché si è sempre in perdita! Gettate via la roba che è così bella! E so mandassi su quell'altro! Poi, so andato dentro! Che comodezza! Si vede che ci tengono i passeggeri, né? Oh! Una manutenzione! Oh! Ad esempio! Dove c'era rotta la foda del sedile, anche a sui sobel scotch! Dove c'era rotta il vetro del finestrino sobel carton! Dove sono muoile a cadere che ha il fil de ferre! Poi non scherzano mica con la sicurezza, né? Più non dì che se si stacca un'ala in te calvo, ti rimborsano il biglietto, né? O se sei tagliato sulla poltrona, sei sentuto il tuo parlante che fa... Si pregano i signori passeggeri di lasciarsi le cinture, ehm, 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 cao è! Infatti ne partì subito, né? Ma la ciappana ricorsa! Uè, è tutto in prima, se si ha cambiato! O di che è pirla lì, è in fondo alla pista, capito il loco! Vecino, si ha capisco l'era tricò! Difatti è andato su in sciarita così, che mi si ristraggio sulla poltrona, ha toffato un volo dalla Madonna, si trova in fondo alla cuo! Allora è corruta lì subito la... la... la moglie dell'oste, e... e la ciappana lo stesso, né? E la mafo, ma scusi, ma lei perché non ci ha lasciato la cintura? Fa, ma scusi, ma lei perché non ci ha lasciato la cintura? Tì, tarlì, sono così bra a te, ma fa lasciato la cintura! Mica c'è cazzoni, no? Poi mi ha streppato su, mi ha menato al posto, e con una bruschezza, ma fa, sei riquieto, mica che vado a finir male! Poi di che sta qui la nasita e la sicuro! Allora si è sentuta la voce del comandante, simpatico, fa, benvenuti a Borda, sono il comandante, vogliamo a 10.000 metri di altezza e a 900 chilometri l'ora! Il signorino, ma di se tanto, se va sempre, mi si piani, oh! se ti ha capito una frenata, cosa fiamme! Si, brusca e vilana, fa, ci vuole così! Ora sei lì che guarda il fuori al finestrino, ho visto una roba con di quel comandante lì, la dai sbumpo con la guida! Difatti c'è una luce in cima all'ala, si scendeva e si spegneva! Signorina, non è per insegnarci il mestiere col perlotta lì, ma ci dica che l'hai stata accesa, con la freccia nella direzione, eh! Eh! Io credo che adesso, mi voglio che fai i tamponamenti! E anche lì, brusca e vilana, fa, ci vuole così! Ah sì? Però se ricordano, se si scarica la batteria, ho fiora nomica qua, eh! Ora, ora se rasta la terza, la velocità, la prima volta, ma ma cazzo, ho fatto in fatica a respirare, perché, beh, la finestrino, c'è una bucata d'aria! Poi, se ero dietro a aprire il finestrino, mi salta d'ostitine! Cosa fa, disgraziato? La pressione è parecchio, sciopa! Oddio! Cosa è semmi che parecchio c'è la pressione alta! Ma cazzo, affoga chiurò, no! E non mi hanno lasciato aprire il finestrino! E io per un po' ho registrato, ma dopo basta! E adesso vado a una cabina di pirlotaggio, caldisi! Difatti, insomma, andò là, ho perduto la porta, e ho visto che il comandante la buonò da guidò! Difatti, che l'ha nata da qua, con un'altra volante, che l'ha aiutato! Oddio, madonna, il galfio di rosa! Spera anche che vanno d'accordo! Se non io vado a chi, che non vado a là, poter'amica cura cadreno! Ove lo dico, comandante, mi scusi, ne? Io c'ho un po' di soffigone, se non tiriamo subito, c'ha pambigul d'aria, non me l'ha finito! Ti, mi salta dosso! Siamo andando, siamo andando! E un altro glida nel microfono, abbiamo un dirottatore a bordo, dirottatore a bordo! Perché non era vero, non ho roto niente, io a bordo, ne? Uè, ma i ragazzi, tutto come sarà? Mi ha fatto il viaggio fino a Roma così! Finalmente arrivo all'aeroporto da Roma, ma mica consegnare la poesia! Sì, ma io ci ho spiegato quello che è succeduto, gli fatti tutti contenti, mi hanno slegato, anzi, vorranno darmi qualcosa perché mi fa... Sì, vada, vada, prima che gli diamo una passatina! Boh! Adesso è una specialità per i turisti, insomma, non c'è, ho fame, di niente grazie, si ha mangiato, e ho fatto la valise e sono andato in albergo, poi, arrivo là l'albergo, fa tempo, non ho lasciar giù la valigia, ho fatto spavento, è arrivato ragazzato così, ma perché mi ha la valise per la tromba? Ho detto, che scrive il gioco la valise? una fatica a starci dietro cinque piani, ne? Finalmente sto rimbambizzo è fermo, lascia giù la valigia, fa questa la sua valigia e questa la sua camera, io, madonna, me non manca lo ci ha fatto, Oh, siccome mi hanno detto che bisogna darci la mancia a chi ti porta le valigie, vuoi dire, ragazzo, tenga, tenga, per le sigarette, lui è nascato da Cerini che lo danno, poi non mi ha guardato torto, non si capisce che lo filmava noi, e adesso, ho dentro la camera, se ne sciacca un po', e poi ho giù la manifestazione, ma vacca bestia, la solita scarogna, ho dentro la camera, combinazione, c'era giù tutti i tapparelli, se vi dico un cazzo, Poi cerco l'intero torta la luce, lo trovo, schiaccio, con la cifra che ho pagato che non mi ha filmato a dire, poi due minuti dopo che si non fa, scusi, ha suonato, sono mica della banda, mi no, poi cerco un altro intero torre, schiaccio, anche la lampadina fermiò, e si come che no, fa guardi che lei ha suonato, ho detto, oh madonna, sta attentando le campane e poi i camareri, ho però fa la figura del paesano, di si c'ha ragione, ho suonato perché mi piace la musica, e per far contento ho dato 500 lire di magia, e ho cercato un altro intero torre, insomma, per farla finire, per accendere la lampadina, ho spenduto 4.500 lire, e non mi caccia, non di piantare io, difatti ho deciduto di risciacquarsi, tracciare schiù, poi ho dentro del bagno a cercare il lavandino, che usanza che è una Roma, dire la verità, cercare il lavandino e ne ho trovati due, sì, ma non erano atti sci, sapute hanno osli, che è l'altra, che è un po' più alto, che mingga metteci il coperchio, una fatica lavato con una manzina, ma no, in più bisognava fare svetta, perché l'acqua durava poco, non parlare del gabinetto, gabinetto a Roma, ho quadrato, atto così, con un buco, bisognava vedere una mira, che quando tira l'acqua, ho già fatto una lavata, di basta, la piantemola lì, si sono asciugato, e sono andato giù alla manifestazione, e anche lì la solita scaroni, ho guardato il cartello, no, alle tasse, lei davanti di lei, vede un cazzo, giù la corteola, è andata là, mi pira da vinda, e dopo un po' di toniella, c'era scartezza, e non c'è più bordella, di fatti, chiuduto il cartello, si sono trovato, in piazza da San Pietro, si, mi to' fuori, il papa sul balcone, ma ne ho, bianco, ma una bianchezza, di che scherzi, ti matino, fanno la biglietta, per la sbattare sul balcone, alla fine, ci ha fatto la benedizione, ai vigili, e ai ciechi, la di luna, urbi e torbi, e poi se ritirò, ora mi metti, che mio padrone, mi ha detto, niente, anche se sei a Roma, compra qualcosa di sacro, che ti ha consumato, di fonderia, di fortuna, di fatti, ho trovato due relicche, una bottiglietta così, con dentro l'acqua, ma la garantirò, ma come la mi dico, l'acqua del diluvio universale, della sua denominazione, da origine controllata, e poi la cosa, più sacra di tutte, ma una sacrezitudine, un osso, di San Daniele, con due fri, e su il tim, di che tu chiedi, così in fonderia, nelle cadine a Peruna, se fanno più di fine, dopo il dovere, c'è il piacere, c'è, anche se chi, andiamo a vedere, questa Roma, che dice che lei si bella, di fatti, c'era lì, uno di quelli, che ti menano in giro, sia a parte, che a Roma, ti menano tutti in giro, ma un cicciacicciarone, smandare, ha detto a Coco, di scusi, ma cosa ci sarebbe, di bello da vedere, e mi fa, beh, vedere, se vuole, se vuole, le faccio vedere piccio, eh, se vuole, le faccio vedere piccio, amico, con tutti i picci, che avevano il paese, facciamo un paese da piccio, e poi, non è sempre la piccià, in compagnia, oh, no, ma chi ha capito, il piccio, è una località, di vacanza, cammino, qual è, eh, ora, se vuole, andando in giro, c'è il piccio, tutti, no, il piccio, fa vedere sa sorella, eh, se vuole vedere piccio, gli faccio vedere, gli faccio vedere il foro, oh, ma che ti sbagliare più, eh, e si incassasse subito, e allora vado a stiave del mare, cos'è, ha messo le stiave del mare, e l'ho piantato lì, mi è stupido, c'è pa' la valisa, e son mandato pa'l treno, mi è dato un camocchella, con i fai rose, e son arrivato in dita, una curiosa, ci ho fatto fare nelle catine, per uno, lo so sacco, per voi dire ragazzi, stia a te, se andiamo a Roma, stia a te, andiamo a te, ragazzi, perché in giro, da te la gente, e il mio padrone, è stato contento, che ci ha chiamato tutti, ragazzi, Toniella è andato a Roma, per io, contro le tasse, e mi par premio, te, ci ha dato il premio, da produzione, sì, e almeno mi rompe più i balli, abbiamo sentito, l'odore del grano, e ci siamo gasati, ma in fase, e mi parla, ragazzi, adesso che c'è il grano, siamo come fanno impiegati, sì, andiamo a C.O., sì, perché impiegati, sono un po' stronzi, e va nascere a lunedì, già per prendere il cuo per ora, quindi, ragazzi, lo fiamo anche noi, il Vicky Land bianco, il Vicky Land, quando c'è in giro, il sabato e la domenica, non è che se stavo in giro, tutti, detto il Vicky Land, boh, difatti, se siamo organizzati, o, o, carletto, fa voi ragazzi, per risparmiare da lì del viaggio, il camion me lo presta il mio cognato, di quelli coperti, a Cazzabagnu no, difatti, se siamo trovati, a sabato mattina, all'alba, c'era là il camion scoperto, siamo andati sul cassone di dietro, pronti per partire, moh, che bezza, accenduto il motore, e poi a scaldarlo, perché l'era un diesel, e poi c'era usciuto il cassone di dietro, cominciato a girarci il cuo, tutto un pirrametto, chi trova sì, chi trova giù, appare una comitiva da Doni Cinta, o, carletto, fomo pistolo, non avete portato le pastiglie, per mal di camion, e c'era su un muggigetto, fa segretto, dove fossi capirla qua tutti, perché il camion è una betomiera, noi che non siamo coglioni da tutto, no? Intanto che, oh, pirlavamo, e fa un'assemblea al volo, i ragazzi, oh, ha fatto il turgiatto, cambiamo il metodo, oh, infatti ce l'abbiamo detto il padrone, oh, ma ragazzi, il camion sve lo do io, e di quelli che non pirlano, date là nel cortile della vita, che è là, infatti siamo andati là, verso, verso le sei, e poi c'era l'alcanus che non pirlà, ecco che ragiona nebbia, e fa assemblea, ragazzi, se che la nebbia guida il Federico, e Federico, c'è la nebbia, c'è il sole, alzano l'astrale, schifo, tanto lui che avete i cazzo di stessi, è buono per tutti i percorsi, fate se mi andassi sul cassone di dietro, decadè, decadè, e, dè sull'ostio, ah, 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 c'è mica sgonfione, eh, gomme di dietro, oh, 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 fa che pensi mio, a due minuti e metà po', le saltaggiò, patate, patate, cambiate le gomme, e via, a, 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 da la nebbia, oh, c'è idea un cazzo, dopo un, tre ore e mezza da viaggio, se cominciamo a schiarirsi, oi, si siamo trovati davanti del camion, una sbarra, stile confine, i ragazzi, la prima volta, ma ci menano all'estero, e magari ci menava scemonizza, rimbambizchi, bottini, infatti, che era là la guardia del confine, e c'è ma, c'è una guardia, e chi ha bebi c'è, è venuto lì, non era la guardia del confine, nel nostro padrone, so, ma fiorci, chi è come? come è chi è come? le tre ore e mezza, che andammo in danò, e ci no, c'ha ragione lì, che pistola, Don Bruno, volendo giù, vuole essere scemona, volendo giù, cambiai scemona, la minga la sta sotto al cric, e beh, e beh che Gigietto, con il fifò, ogni tanto gridò, va piano pistola, si pia' di ci, se non fai, ora ci abbiamo fatto, il quiz al Bruno, c'è che ha detto in che, se usa fai quiz, dalla mattina alla sera, in televisione, no? assi ocio e ocio, se andammo oggi, si, fra un po', quando andammo al gabinetto, e tirano l'acqua, mi era a fare il biglietto, indovina cosa hai fatto, e se indovini, portavi la prova d'acquisto, ancora cadano, di Bruno, e chi sa che, quiz, pronto, se entro 30 secondi, se il giorno, tirano via il cric, indovina dove te lo mettiamo, ora indovina, franno, tirano via su, perché la dica, che dava fastidio la manetta, no? stavolta, siamo partiti, su serio, però che dì a Bruno, te che sei grande, vai su i piedi, sulla capota, dal camio, e guardi, quando ci sono, i ostacoli, e te che dì, subito al Federico, che non ci vedi, un cazzo, vabbè, ooooh, lecchio, ogni tanto, ha dovuto, un andreato al Bruno, che le sce, le sce, quando passavano sotto i ponti, invece di sbassarsi, poca restata così, ooooh, che più Bruno, avanti, andrei, avanti, andrei, e Beccal era sempre, anche il punto, il primo, sì, per non parlare di noi, noi che eravamo, su, sul cassone di dietro, eh, c'è che le pizze, la stracca, fa, ancora cadrei, a camio, scritto il re, perché quel pistone, un Federico, con la scusa, che non era pratico del mezzo, ogni tanto, invece di cambiare la marcia, attirava la leva, da ribaltare, e noi, se trovo, se ne ho detto, mentre la straccia, e che era più camisa, da chi, che dopo l'ultima rincorsa, di 18 km, ci siamo anche, incazzati, incazzati, fa assemblea, i ragazzi, ma chi c'è, andrà in da scia, a pe, oh, ci sa, io, c'è per la bicicletta, oh, gli, siamo andati, su, sulla cabina, stile Rambo, e ci abbiamo resegato, la leva, da ribaltare, e via, che siamo ripartiti, ripartiti, se fa partire, se partire, a sabato mattino, tra, andavanti in diretto il bruno, tra, cura che adria il camion, e ogni sabato sera, siamo andavanti in Aspana, e ogni buio, con la nebbia, e ci siamo perduti, adesso, indica, eh, noi, par fortuna, su marciapiedi, camminavo a un piscinella di uno, dico, scusi signore, che scusi, a che parte, che si va a sciare, fu, ah, dove di sciare, andate, se, sembra dritto, no, voi quando ci stanno le curve, girate, dopo un passaggio, arriva, e la sinistra, oggi, dietro, si è spaitato, fu la cabeza, si arriva in Sicilia, io ce ve lo dico, di ignorare, non senti, che c'ha la pronuncia, da cinisello, balza, i fondi, oh, passaggio a livello, a sinistra, oh, poi, dopo un po', andiamo, arrivo in vista, ad una galeria, di ragazzi, che se, quella, l'estraforo, del Monte Bianco, non l'estraforo, del Zempione, adesso, manda dentro, c'era uno indiviso, che scusi, c'è una discussione, che straforo è, ma quale straforo, ti sto, che del no, che la stazione, non c'è trato, c'è ragione lui, il pistolo, ad un Federico, non ci vede un cazzo, le arrivo a passaggio a livello, ha passato il primo binario, ma il 23 al secondo, non c'è un po' di modo, e gli fero un casino in stazione, gli fero un casino in stazione, quando hanno visto il rio al camio, con la due cazzo, arriva, che scherzo, ha sbagliato il binario, ma metti il centro, con il domodosolo, e per lasciarci andare via, fa lasciarci qua il camio, sequestrato, e non è tutto, ma noi ci siamo trovati, sul marciapiede, come il cirulo, fa assemblea, e ragazzi, se torniamo in ditta, senza andare via, lunedì, i piegati, ti fanno più via, e dicono, andiamo via via, andiamo via, ci ha mica detto, che la domenica mattina, proprio davanti alla stazione, in tutto il piazzale, ci partivano i film, che andavano via, gli fero, sai chi sta qui? difatti dormito di traverso, sulle traverzine, domenica mattina, per primine, gli arrivo al primo, e da ciò? Si, tra, siamo arrivati, dove cazzisciò, che di che organizzazione, oh, ti dirò, c'è già la neve per terra, te la spantegano prima, e ragazzi avanti, e siamo andati, in zun zun, sulle piste, lei che oi, o Federico, voleva sciare a tutti i costi, vuole fare assemblea, e ragazzo, che schiga, non cazzo, se va giù dalla discesa, tutte le piante che trovo, pazzo in pasta, che pericoloso, ne, per le piante, dopo c'è il VVF che ci la mette, ora ci abbiamo noleggiato i sci, gli ammetti su, tanto io, e gli ammetti su da in terra, e si è metto in posa con le racchettine, la ristide davanti, ci facevano i capelli, tipo velocità, che a detto capitava, torna neve in curva, di pista, la ciappana polmonita, ma si divertevano, invece Bruno, no Bruno, Bruno è scemo, ha spenduto, quasi tutto il premio da produzione, in sci, non in cine, in sci, perché andavo là, non leggiare, mettevo su, e si incazzato, oh che bestia, anche a questi, mia da storti davanti, e voleva dire, ma ci restavano in mano, ne ha fatti fuori dieci paio, che era tutta la montagna, di impiegati cari Deo, poi fa assemblea, e c'è ma, visto, sennò poi gli fai figlio da merda, gli operari, vuoi sci dritti davanti, sì, ma va a chi un treno, eh, dopo la capiglia, noleggiato slipino, e c'è la resti, no? E c'è la resti, no? L'aristide aveva fatto militare dagli alpini, e sapeva sciare, lei che va a cominciare in alto, fa il baiuscio, fa io non scio sulle piste da dilettanti, io vado su quelle dei professionisti, sei quelle che c'è un, un schifino che ti ha portato qui, no? Schifino che c'è un po' per le schifine, è che i suoi tempi non c'era schifino, allora quando andai giù per andare su, non schifino, ma rampego, e non era abituato, difatti dopo due ore che si siedeva in terra, e schifino che andavo, al vano, al vano, l'è già andavo, però, ma se cazzone, basta, basta, tanto ma frega più, ho fatto finta di niente, quando arrivo a schifino, oh, la ciappa davanti, eh, ce l'ho fatta, si vedo, si vedo, è che la sera, ragazzi, ghiaccio, ghiaccio, dopo alle scine, eh, e c'è carletto, no, carletto sapeva sciare, sciava proprio di Dio, e che era prudente, cioè, nel senso che ghiaccio, una fifa dalla madonna, quando ho visto che la pista era troppo guzza, dimmi, oggi ho dei sbiessi, i ciu-li-ti, infatti andavo giù di traverso tra una pista e l'altra, pian pianin, poi mi ho conosciuto tanta gente, però, nei quanti amici che ha fatto, che ogni tanto, invece andava giù per la tris, la abbracciava su e andava giù insieme, invece, Tobia, no, Tobia, è venuto con noi, perché gli ha piaciuto la compagnia, perché lui non può sciare, no, è malato, c'è la malattia professionale grave, la malattia di fondo, no, le super alcolizzano, e la facciamo alla Ferrari dell'usteria, fa tre chilometri con un litro, poi dopo l'ultima visita che ci han fatto, c'è che ci han fatto un prelievo delle vene, ci han trovato tracce di sangue, e il resto è più barbero, poi il dottor Gladin faccia, mi spiace, ma lei fra un po' è doc, e poi le sarebbe preparato gli etichetti, ma no, io non scio, ma si divertisco lì stesso, era lì che giravo, tutto al tratto, amica ha visto, una vacca di un cane, e era più vacca che cane, perché le erano tici, cusotta la bomboletta dalla grappa, e la sentì l'udur della vitamina, ha chieduto informazioni, ehi, se fa che cacchi, barista, ci han detto che il cane non c'ha la licenza, però quando c'è la valanga, corre, e ti dà il cicchetto per tirarti su, poi la sentì, le porti in truma, adesso la montagna, si è coperto di neve, la cacciaferò la mano, la valanga, c'è arrivato il cane, e ci ha ferato tutta la bomboletta, intanto che il cane andava a fare i fornimenti, noi cambiamo posto, la valanga, la valanga, la valanga, 12 cani a cacciacciato, la ciappanna a caino, gli ho togliuto la montagna, a fare un serpente, dove respirava, si scioglieva la neve, invece io no, io, oi mio, ma io, al massimo, una scaricata, ero lì un po' nell'indecidenza, no, decidenza, se io, se io, no, ti to' entrato, ho mica visto, un fratello del sud, fratello del sud, gli americani, che dice, un brotezzo, a Milano e Rom, e sono andato a cago, di come male, ma lei che del paese del sole, è qui a sciare a frecci, perché dove deve sciare, solo il mio milanese, pure tu, fava pure come vuole, infatti ha metto sui suoi scieti, se era portato a un metro un cazzo, in altri sci, allora cominciò ad andare giù dalla pista, fa sole mio, ehi, cambia calzone, se no la neve si disrengua, se fai, giù sull'erba, tra l'altro la pista si biforchezzava, da una parte che è sul cartello, pista normale, da quell'altra, pista meridionale, poi se ci rendete contento, fai visto che ci hanno fatto la pista per noi, pure tu, ma sole mio, dopo un po' come normale, meridionale, la meridionale, la cominciò ad andare in picchiata, è arrivata sul trampolino, tu, quella lì che il volava, si sentì, pui, o dì che la pista lì la mezzuola non è, piuttosto ho già una ciappa del china, ciappa dell'acqua con la scanela di rimè, infatti se sono deceduto, ho di sci, anch'io, e ho noleggiato i sci, e lì la so le tascaroni, mandò un paio di sci, scompagnati, invece di dammi tutti e due che andavano insieme, ma andavano cadere chi, cosa è andato là, e a farla discesa così, ho strappato tutto il, il cavallo, ne, e alla sera, per mettere a posto il, il fantino, madonna, ma non stava più in sella, ne, e sì che le, e sì che le vittuò a montare a pelo, però, cos'è, il ginese di chi, il ginese di là, me non mi raccontrò nella stighetta, lo rigaio rete, se non da cadere a impiegare col baciocche d'onda, figure di merda, ne, però, e tra una roba e quella, ci siamo divertiti, ne, il fio, è sci anche noi dalla fonderia, e piegò la ditta, e siamo andati giù al pulment, a lunedì il padron, ti contento, i miei fio non andassi, anzi, ha detto che ci davano prima, e ce l'ha dato, ma ragazzi, alle ferie, vi faccio lavorare, a gratis, uscire a pagare il camion, che l'ha in stagione, c'è un'altra, una brava azzerzona, dunque, una brava azzerzona, che ci vuole bene, e noi, operare, che siamo dal 2000, a teni un due, teni un due, perché, se la sa gira, madonna, che, se la sa gira, bravo, bravo, Allora io direi di richiamare Direi di richiamare il maestro Giancarlo Alati Che credo che ci siano dei personaggi di Carugate Da ringraziare Allora ringrazio innanzitutto voi che siete venuti Ringrazio gli artisti Tognella, Lamaeva Forse ci dirà due parole Due, due, due Lui dice sempre due parole Due parole, ecco Sì, due sono Una è un ringraziamento agli artisti Che sono venuti a Carugate E sappiamo che sono artisti Che di solito vanno negli studi televisivi addirittura E quindi siamo contenti che sono venuti anche in un paese E quindi per quello che vogliamo lasciare Un ricordo di Carugate Perché questo incontro così veloce Ecco, possa continuare anche dopo L'altra parola invece è il ringraziamento Alla Lanmic Questo momento suggella Un importante anniversario Di questa associazione Importantissima per Carugate Le iniziative sono state tante Durante lo scorso anno E quindi questo è l'ultimo momento Che direi chiude in gloria Ecco tutto L'insieme delle celebrazioni E il ringraziamento poi a Giancarlo Alati Che è un po' l'anima L'anima dello spettacolo di stasera A cui tutti Per cui tutti gli siamo grati Certamente Ma poi anche l'anima Un po' dell'associazione Con tutti i suoi collaboratori Ecco, però da lui parte C'è questa passione Che ci ha un po' contagiato tutti Ho finito Allora, ringrazio anche La mia spalla destra Perché come avete visto i manifesti G e G Edizione L'Ariana Ha collaborato per gli artisti Così Maestro Alterizio qua Penacchiole e Paolino Poi c'è una regista di Telemonte Carlo Poi abbiamo qui I vari giornalisti Abbiamo anche Un reporter di Vistopi Dicendo Un grazie alla mia spalla destra Perché l'ho fatto correre In questi giorni Perché ci vuole Un applauso a Gianni Fabri Perché lui Mi ha dato una mano Nell'esponsorizzazione Però adesso lo faccio lavorare E ancora Devo prendere i presenti Siamo contenti che il comune Ha pensato di dare qualcosa Agli artisti Tu ne hai la sette di Isabel? Eh, ne ho Ma da sempre la targa È l'Utomobile All'Ariopi Allora Al nostro Tognella Un applauso Tognella Fai vedere Fai vedere E su Habermi Fai vedere Grazie a tutti.